ragazzi amici di radio show guardate che ho trovato per le strade di Trani tu mi stai? l'ho trovato distante ci siamo facciati prima va bene e qui c'è il green pass no c'ho il ticket per i passi non c'è la testa giusta no quello è l'altra cosa, il ticket pasto il ticket non c'è la testa, non si capi e io mi sono 40 anni ecco perchè non mi volevo trovare la massa saluti agli amici di radio show che sono da tempo che ti seguono ciao giubilieri, ciao a tutti gli amici e gli amici di radio show di radio show show non è senza sbattire e c'ho quello che voglio fare non c'è la testa mi raccomando seguite sempre il mio amico Tamni Vittorio Castileggi e qualche volta chissà se io faccio un'ingulsione militare a lui più un'illusione più un'illusione non è una brutta parola a quest'ora e quando la vita la vedi mi raccomando fate un bacione da me e da ciò che ha chiamato io sono Mephisto al piacere Antonello Ricci ma sta notte la Zambanta ha fatto dormire non l'ho capito la stanotte la Zambanta ha fatto dormire ah no c'è una Zambanta parlando della Zambane ma a me non è solamente la Zambane ti sei vaccinato? si green pass e io ora vado a fare uno scondino prima del green pass un buon green pass a tutti a tutti ciao ciao non foschè ciao